ciao maria ciao chiara come stai bene e tu tutto bene novità si ho conosciuto un ragazzo che bello raccontami tutto due settimane fa mentre stavo facendo la spesa un ragazzo mi ha chiesto di aiutarlo a scegliere il detersivo per la lavatrice all'inizio ero perplessa lui era molto carino e gentile aveva un'aria un po insicura ed impacciata io ho indicato il detersivo e sono andata via lui è rimasto a fissarmi per un po mentre facevo la fila alla cassa quel ragazzo si è fermato proprio dietro di me poi mi ha chiesto se potevo dargli il mio numero e io ho detto di sì eravamo entrambi imbarazzati che bello e poi cosa è successo il giorno dopo mentre guardavo la televisione ho sentito il cellulare squillare era lui abbiamo parlato per un'ora e poi mi ha invitato a cena e di ho accettato il giorno dell'appuntamento ero molto nervosa non sapevo quale vestito mettere ho fatto tante prove alla fine ho scelto un vestito elegante ho fatto una doccia mi sono vestita e poi mi sono truccata ho preso l'auto e sono andata all'appuntamento lui era già lì ad aspettarmi quando sono arrivata ci siamo salutati e siamo entrati nel locale c'era un'atmosfera molto romantica un pianista suonava musica classica alcune coppie parlavano sedute tavoli ci siamo seduti e mentre parlavamo è arrivato il cameriere che ci ha portato il menù di cosa avete parlato lui mi ha raccontato di quando era bambino andava sempre al mare in una città vicino a dove abito faceva delle escursioni con la sua famiglia nelle zone vicine chissà se ci siamo incontrati in passato senza saperlo gli ho raccontato di quando ho vissuto in america per un anno era molto interessato abbiamo passato più di tre ore a parlare è stato divertente a fine cena abbiamo chiesto il conto lui ha insistito per pagare quando siamo usciti abbiamo fatto una passeggiata la città era silenziosa c'erano poche persone faceva anche un po freddo è stata proprio una bella serata we use passato prossimo and imperfetto tenses to talk about actions in the past let's see the differences with the passato prossimo tense we want to express a time period that is precise and limited we want to express an action that happened in the past once or twice ten times but it has a starting point and end it is precise for example da piccolo son andato in francia the meaning in this case is that i went to france once we use imperfetto tense to talk about habitual actions in the past for example if i say da piccolo andavo sempre in francia i'm talking about an habit something that has no clear start or end the action is carried on for an undetermined and continued period of time we also use imperfetto to describe places feelings people situations in the past to outline the background of a story for example la città era silenziosa e c'erano poche persone we usually use the imperfetto tense with adverbs that indicate an habitual action for example di solito spesso sempre note that with the adverb sempre there is something to remember usually we use it with imperfetto tense to express an action that took place continuously in the past that no longer happens in the present for example da piccolo andavo sempre al mare the meaning is that i'm talking about something that happened habitually in the past when i was little and is no longer happening now but we could also use the passato prossimo and say sono sempre andato al mare in this case the meaning is that i always used to go to the beach and i still go now in a sentence we can use passato prossimo plus passato prossimo or imperfetto plus imperfetto or passato prossimo plus imperfetto let's see how to use them we use passato prossimo plus passato prossimo for actions that happened one after another for example ho mangiato poi ho guardato la televisione e sono andato a letto we use imperfetto plus imperfetto for actions that occurred simultaneously for example mentre studiavo mia mamma preparava la cena we use passato prossimo plus imperfetto for an action that happens and fits into another one started earlier for example mentre guardavo la televisione luca è tornato a casa the modal verbs volere dovere and potere have different functions based on the tense used if we use the imperfetto tense they indicate the intention to do something but it's not clear whether this thing happened or not for example luca voleva fare una vacanza l'anno scorso we don't know if luca went on holiday or not i should specify it by adding other information for example luca voleva fare una vacanza ma poi è rimasto a casa or luca voleva fare una vacanza e quindi ha prenotato un biglietto aereo instead if i say luca ha voluto fare una vacanza using passato prossimo tense the meaning is that luca took the vacation i don't need to add more information the meaning is already clear that is all for this lesson if you like this video leave a comment share and subscribe see you to the next lesson